Intro Benvenuti ragazzi sono i Dixmax E benvenuti in questo nuvissimo video Stiamo tornando qua su StumbleGuys Ragazzi perché oggi andremo a provare Come abbiamo fatto anche nell'altro video ma oggi andiamo a provarlo Ancora meglio Chaos di Barbie a Malibu ragazzi vi ricordo di lasciare un like In iscrizione e una campanella Condividere il video dei vostri amici E non mancate dopo il live Le 10 di mattina questo video riuscirà alle 9 Ricordo ragazzi quarto e sesto link in descrizione Per seguirmi su discord E per seguirmi su tiktok Quinto link in descrizione per entrare nel mio server discord Primo link in descrizione per abbonarvi Se volete abbonarvi potete cliccare anche il tasto del sito abbonati Sotto il video cioè il tasto lo cliccate per abbonarvi Potete scegliere voi il livello di abbonamento Secondo link in descrizione per comprare Le mie t-shirt personalizzate Etics max Vedremo che sarà il quarto della storia a comprarla E terzo link in descrizione per fare Una piccola donazione vedremo che sarà il prossimo A fare una piccola donazione e supportarmi Saluto top donator che è sempre Di sempre che è Jess con 164 euro E virgola 65 centesimi Donati quindi 64 euro e 65 centesimi Ragazzi dato questo andiamo a fare il giro fortunato Della ruota e poi andiamo a giocare Perché sono veramente carico a molla Andiamo a prendere i primi gratis A attendere certo che attendiamo ragazzi Andiamo a fare il giro fortunato gratuito Vediamo un po' cosa è Hanno aggiunto un'altra skin speciale Sono molto contento Speriamo di trovare qualcosa Anche se non troveremo niente Legionare Legionare Niente 5 gemme O rara 5 gemme Ma Mamma mia che sfortuna Sono una scarsunne Che sfortuna Vabbè Meglio di niente Ok Andiamo a giocare Adesso andiamo a O possiamo fare anche la ruota Oh Barbie Dai andiamo a fare la ruota Ovviamente il video ve lo salto Ragazzi Credo che la youtube Mi ha Sì che youtube Che stavo Mi abbia fregato ancora Perché mi ha fatto uscire la stavo Dopo che ho visto il video Ma stiamo scherzando Sì ragazzi Mi ha ufficialmente fregato ancora Vabbè Ragazzi Andremo Niente Caos Di Barbie A male di bu No Aspetta un attimo Andiamo a prendere le ricompense Mamma mia Questi gettoni Barbie Gettoni Andiamo a giocare Ragazzi Non mancate dopo in live Il 10 del mattino Mi raccomando ragazzi Seguirmi su tiktok Per favore Quarto link in descrizione Please Mi sopprate un botto Un botto Un botto Non mancate dopo in live Il 10 del mattino Ragazzi abbonati Vi manca un abbonato Per arrivare Il 10 del mattino Speriamo di riuscire Ad arrivarci dopo in live Ragazzi Non mancate dopo in live Please Anche un abbonato Di 10 abbonati Per favore ragazzi E Vediamo se si starta la match Perché non si sta startando No niente Siamo usciti di nuovo Si è verificata La disposizione del gioco Va bene Che teleuri Vediamo se adesso va Ok adesso è andato Adesso è andato Molto bene Caricamento Molto molto bene Vediamo un pochettino E Va bene La mappa che esce La stavamo già Va bene E Spieghiamo quando si apre la mappa Vediamo un po' Ah no Si è già aperto Allora Inviare sogni Ah Ho capito Sebbiamo questo qui Allora Vediamo se qui La freccia Guarda E' molto complicato Questo Questo Esquerente Inviare sogni Ho capito Però è difficile È difficile Allora Inviare sogni Sì Dove raccogliere questo Lo so che lo devo raccogliere Perché allora faccio Invia Ah Inviarlo adesso E' ho capito Successo L'ho fatto Preparati Preparati a cosa Prossimo 3 3 2 1 Oh my god Ragazzi Ho finalmente capito Come funziona Sta Sto Evento Ragazzi Niente Niente Ok Ho finalmente capito Come funziona Sto evento Ragazzi Ho finalmente capito Come funziona Sto evento Non ci posso Vedere Non ci posso Vedere Ragazzi Eccolo lì E' lì E' lì E' lì E' lì No No Please No Dove Inviarlo No Invialo Invialo No È eliminato No 16 su 15 Non ci posso Credere Ragazzi Non ci posso Credere 16 su 15 Che sfortuna Che ho E' lì Ma riesco a fare Un'altra partita No Ma che sfortuna Non ci posso Credere No No Dai Ma com'è possibile Com'è possibile Devo andare A seconda No Di uno Tra l'altro No Dai Ci posso Perché Ho perso All'ultimo Secondo Vabbè Andiamo Andiamo A dare il sogno Subito Rixmax Corri Corri Ho finalmente Capito come funziona Questo evento Regà Non l'avevo ancora Capito Qua non c'è niente E allora dove devo andare Non ho capito Dovevo andare Però vabbè Ah Ho capito Ho capito E dai Eh no Credo di essere già eliminato Ragazzi E' lì il pallone Si Dai Edix Dai Edix Dai Ci sono ancora Dei sognatori Lì Preparati Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Successo Preparati No Si Dai Vai Ma sul riscaldamento Cosa Cosa stai vicino Sul riscaldamento Ci posso credere Sul riscaldamento Ma cosa stai vicino Sul riscaldamento Devo saltare meglio Niente Ci posso credere Ci posso credere Ok Dove salire Dove salire Sono tutti Sono tutti qua Ok Vai Edix Max Preparati Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ragazzi Vai qui Ok Il pallone Il pallone Il pallone Il pallone Il pallone Ok Vai 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 Edix Max Vai Edix Max C'è Codo L'ho preso per primo L'ho preso per primo Ho avuto una fortuna bestiale Ragazzi Dai 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 muoviti Si Mamma mia Edix Max Mamma mia Edix Dai finisce sto round Può finire questo round Per favore Ho portato io al sognatore Uno l'ho portato al sognatore Successo Vi devo stranamente preparare Una persona che perde Una persona che perde E ci siamo Ufficialmente Qualificati C'è go Do Molto molto bene Ragazzi sono contentissimo Mamma mia L'ho rischiato tanto E' molto difficile questo evento Ragazzi Ci abbiamo fatto Per fortuna Ci abbiamo fatto veramente Ci godo ragazzi Ci godo E ora c'è Over and Va bene Solamente la prima Mamma mia Ce l'ho fatta Finalemente E va bene Ora sarà difficile Però comunque Noi ci proviamo Niente pare Ho sbagliato Già Però posso ancora recuperare Over and Non ci posso dire Mi volete male però Mi volete male Mi volete male Mi volete male Dai Ma perché mi fa fare i doppi saldi che non faccio Dai che mi fa un po' di fortuna Neanche un po' di fortuna mi fa E niente Oh ma un po' di fortuna ogni tanto Dai Niente Oh io vi scongiuro Non mi fate il pay to win Perché io anch'io ce l'ho il pay to win Solo che io non lo uso perché non sono un pay to win E invece che si Niente Invece no Però almeno non ho dato il pugno Molto bene ragazzi Siamo qualificati al final round Ci godo ragazzi Ci godo un botto Ragazzi Hashtag stumble ladro Mi ha chiuso la partita ragazzi Mi ha chiuso la partita Non ci posso chiedere Si è baggato tutto ragazzi Vabbè Noi abbiamo comunque fatto vedere Che comunque siamo riusciti a giocare a questo evento Non funziona più niente Il mio stumble Vabbè Si è baggato tutto ragazzi Poi dopo non siamo riusciti a fare il giro fortunato Vabbè Vi aspetto dopo in live alle 10 del mattino Faremo il giro fortunato E lasciatemi un ragazzo In questo riscatamento Ricordo di lasciare un like Con iscrizione La capo di averla Condividerevi tutti i vostri amici Subicato su Discord Quanto Sesto link in iscrizione Quinto link in iscrizione Tra le mese a per Discord Prima link in iscrizione Per abbonarvi Secondo link in iscrizione Per compararmi di short Per su ZRX E terzo link in iscrizione Per fare una big blue Alla nazione Di soli su i suoi saluti Ci vediamo dopo in live Di cermattino Può fin uscire alle 9 Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti